Quando possiamo fotografare le persone e soprattutto quando possiamo pubblicare una loro foto senza incorrere in atti illeciti e avere dei problemi lo scopriamo in questo fototutorial. Ben arrivato in questa puntata di fototutorial, in questo episodio di fototutorial sono video nei quali provo a analizzare alcuni temi tecnici o non tecnici come in questo caso ma che riguardano il mondo degli appassionati di fotografia. Se sei un appassionato di fotografia ti do anche il benvenuto nel canale riflessioni fotografiche, il canale dedicato a coloro che amano la vera fotografia, cioè che amano fotografare, gli piace fotografare e dedicano una piccola, una grande parte del proprio tempo a questo meraviglioso hobby, passione o professione per qualcuno. Oggi tocchiamo un tema importante che è quello appunto della possibilità di fotografare le persone e di pubblicare la foto delle persone. È un tema delicato perché si va incontro a procedimenti anche penali, quindi bisogna prestare molta attenzione e le leggi nell'arco degli anni si sono in qualche modo irrigidite. Anche se viviamo in un paradosso perché saprai benissimo che tutti quanti noi abbiamo lo smartphone che possiamo fotografare e riprendere tutto, è pieno di telecamere che con la scusa della sicurezza ci riprendono H24, però come foto amatore, come professionista, non so quale sia il tuo ruolo, saprai benissimo che le leggi sono diventate piuttosto stringenti. Tuttavia c'è molta confusione, quindi si sentono pareri piuttosto discordanti e per questo ho voluto fare questo video tutorial sperando di fare un pochino di chiarezza e dando qualche informazione approfondita. Prima di vedere tutte le varie casistiche ti invito ad iscriverti al canale e di spuntare la campanellina per rimanere aggiornato e se ti piace investire su te stesso, ti piace la crescita fotografica, cioè vuoi migliorare le tue fotografie, dai un'occhiata in descrizione al video. Ci sono i link ai nostri corsi di fotografia online ma li puoi scaricare sul tuo computer, quindi non hai abbonamenti, non hai assolutamente nulla. Il corso dallo scatto alla stampa fine art dove ti spiega tutto il processo per gestire il workflow di lavoro e quindi vedere in stampa ciò che vedevi a monitor. Il corso completissimo dedicato al bianco e nero, nozioni in fase di scatto e metodi per uno sviluppo professionale in bianco e nero. Il corso completissimo dedicato alla composizione fotografica, il corso completissimo anche questo dedicato all'uso del flash e poi un corso molto interessante dedicato all'esposizione e allo sviluppo della foto per diciamo spremere ogni pixel del tuo sensore. Lo dico sempre è bello investire in attrezzatura ma investire in noi stessi è la cosa migliore. Detto questo torniamo in argomento e parliamo appunto di questo tema. Allora una distinzione a monte perché alcuni mi hanno detto in altri video eh ma il fotogiornalista pubblica tutto. Eh sì c'è un piccolo particolare che lui è un fotogiornalista e magari tu non lo sei. Per cui il fotogiornalista per il diritto di cronaca ha la possibilità e ha il diritto appunto di pubblicare ovviamente le fotografie di persone. Ma ovviamente la pubblicazione deve essere motivata cioè non è che uno un fotogiornalista fotografa per uso personale e fine. No fotografa la persona e perché è finalizzata la pubblicazione su un giornale. E altra cosa importante non deve ledere comunque la dignità della persona. Capisco che i concetti di ledere alla dignità ad esempio sono molto labili però questo è ciò che diciamo dice la legge. Tenete presente che io vi dico dopo ovviamente avere studiato, analizzato, approfondito l'argomento non ti sto a citare la legge, il comma eccetera perché non mi sto rivolgendo a degli avvocati. Sto parlando semplicemente dei foto amatori che hanno bisogno di capire poi in sostanza cosa possono fare e cosa non possono fare. Cominciamo da un caso molto semplice cioè una persona fotografata che è isolata diciamo da un contesto ed è riconoscibile. In sostanza è il classico ritratto un po' per intenderci. Ecco in questo caso in tutti i casi occorre avere la liberatoria da parte della persona se vogliamo pubblicare la foto. Noi possiamo anche realizzarla, usarla per scopo privato ma se vogliamo pubblicarlo dobbiamo avere la liberatoria. Se la persona è riconoscibile ma è in un luogo pubblico anche in questo caso dobbiamo avere la liberatoria. Quindi se siamo in una piazza, in una via, fotografiamo una persona e questa persona è rilevante all'interno del fotogramma ed è riconoscibile occorre avere la liberatoria. Tuttavia se la persona è in un luogo pubblico è riconoscibile ma è un elemento marginale cioè io fotografo una piazza dove si capisce che la fotografia è della piazza cioè il soggetto è della piazza oppure un monumento, una statua eccetera eccetera e c'è una persona quindi ha un ruolo marginale in quel caso sarebbe sempre meglio avere l'autorizzazione però diciamo che siamo borderline teoricamente possiamo pubblicare la fotografia senza correre troppi rischi. Ovviamente se la persona è in un luogo pubblico e non è riconoscibile possiamo tranquillamente pubblicare la fotografia senza nessun tipo di autorizzazione. Stessa cosa il luogo pubblico oppure privato magari fotografando un dettaglio ok quindi fotografo ad esempio le mani di una persona io posso pubblicare la fotografia. Attenzione però se su una mano ad esempio c'è un tatuaggio particolare quindi unico che riconduce ad una persona e magari quella fotografia lede in qualche modo la dignità di quella persona lì potremmo avere dei problemi quindi attenzione a questo aspetto se ci sono elementi che caratterizzano e come dire identificano in maniera inequivocabile la persona o il personaggio di torno. Oppure quando fotografiamo una persona in luoghi esotici lontani come spesso fanno molti fotoamatori cosa fanno? Vanno in India perché in India ci sono dei volti meravigliosi, particolari, colori bellissimi e quindi ci posso pubblicare la foto. È il solito discorso, prima di tutto bisogna informarsi in base alle leggi del paese. Questa è una prima regola fondamentale. Seconda cosa dipende se il soggetto è riconoscibile o non è riconoscibile in linea generale comunque sarebbe preferibile avere lo stesso una liberatoria. È anche vero che all'atto pratico in posti veramente lontani è difficile che la persona come dire in qualche modo trovi la foto insomma venga identificata, si identifica all'interno di una foto pubblicata da una persona che vive dall'altra parte del mondo. Però oggi il mondo è piccolino per cui grazie a internet e per cui attenzione a questi aspetti. Tenete poi conto che noi stiamo parlando di pubblicazione senza fini commerciali perché se io faccio una foto a una persona e poi dopo e non sono un fotogiornalista e poi dopo con quella foto faccio del merchandising e vendo eccetera attenzione perché lì la cosa diventa più complicata e anche più rischiosa dal punto di vista delle sanzioni che ti sono anche penali. Quindi in luoghi lontani la cosa migliore è sempre informarsi sulle leggi del posto e comunque lavorare in maniera un po' professionale di buon senso. Se hai fatto una foto da una persona magari lo paghi, dai un piccolo compenso, gli fai firmare alla liberatoria e tu sei tranquillo e quindi a quel punto problemi non dovresti più averne. Ma se fotografo una persona durante manifestazione posso fotografarla oppure no? Qui attenzione parliamo di manifestazione non solo politica ma anche una manifestazione sportiva, religiosa eccetera. Se il soggetto non è la persona ma è la manifestazione, cioè io pubblico una foto dove sto, di fatto il soggetto è la manifestazione, cioè si capisce che non ho fotografato una persona nello specifico, ho fotografato un evento. In quel caso problemi non ci sono e linea generale. Sempre che non ci siano minorenni e così via, ma insomma il discorso cambia. Ma se io fotografo all'interno di una manifestazione un soggetto, quindi faccio di fatto un ritratto a quel soggetto, anche se hai in mano uno striscione che dice viva la fotografia, ma comunque è riconoscibile, quindi si capisce che il soggetto della foto non è più la manifestazione ma è la persona, ci vuole la liberatoria. Comunque, per quanto riguarda figure pubbliche o personaggi famosi, se sono in un luogo pubblico e stanno espletando la funzione di persona pubblica, faccio un esempio pratico, il sindaco che è una manifestazione, un evento per inaugurare un nuovo locale, una statua, una via e così via, non ci sono problemi. Se invece io fotografo il sindaco che sta mangiando al ristorante, quindi in un luogo privato e magari lo becco con la salsiccia in bocca e quindi la foto lei della dignità del sindaco, ovviamente questa cosa non va bene e comunque in linea generale sarebbe sempre meglio avere la liberatoria. Un altro caso sono gli artisti in luoghi pubblici, artisti ma anche artigiani, questo discorso può volere anche per gli artigiani perché a me è capitato alcune volte andare a delle fiere medievale, mi piace molto, e ci sono degli artigiani che magari fanno la carta piuttosto che uno strumento antico e così via. Quindi come bisogna comportarsi in questo caso. Ora, in linea generale si può pubblicare la foto, soprattutto se il ritratto è un po' ambientato, quindi si capisce che io sto fotografando ancora una volta l'evento, la manifestazione e non semplicemente la persona. Se invece faccio un primissimo piano della persona e quindi è di fatto un ritratto, in quel caso avere la liberatoria sarebbe sempre meglio. Se poi l'artigiano o il musicista, diciamo la persona, è dentro al negozio, in quel caso è in un luogo privato e ci vuole l'autorizzazione. Per quanto riguarda minorenni o bambini, lì la cosa diventa ancora più rigida e complicata, per cui ci vuole comunque l'autorizzazione e la liberatoria di entrambe i genitori o di coloro che fanno le funzioni di tutore. Quindi a questo punto ti sei richiesto, vabbè allora di fatto non posso fotografare le persone praticamente mai, se non ritratti dove è concordato quel soggetto, altrimenti ti andrà un problema. In effetti è di fatto così. Cioè molti fanno la street photography con molta leggerezza, molti fotografano le persone con molta leggerezza. È vero che sono rari i casi in cui trovi la persona che ti rompe le scatole, il più delle volte ti dice guarda togli quella foto dal video, dalla pagina perché non mi va, non mi piace eccetera, però potresti anche trovare la persona che gli girano le scatole in quel giorno e insomma ti dà dei problemi, quindi attenzione. Quindi cosa possiamo fare? Io ti do qualche tips se dovesse piacerti ad esempio la fotografia di strada, insomma raccontare la fotografia di viaggio e così via. Beh la prima cosa ad esempio è trasformare le persone in delle sagome, cioè in sostanza fotografare in controluce, le persone diventano delle sagome, delle silhouette e a questo punto la foto la puoi tranquillamente pubblicare. Oppure fotografare un luogo, un posto dove si vede chiaramente che la foto è del luogo, del posto, di qualcosa, di una montagna eccetera eccetera e non del soggetto. Cioè se io faccio una fotografia di una montagna e lì sta passando magari piccolino a una persona voglio dire è anche difficile a volte fotografare senza avere nessuno nell'inquadratura. Quindi soprattutto se lavoriamo con un campo largo. Quindi in quel caso però la foto sostanzialmente si può pubblicare, non ci sono grandi problemi. Oppure fotografare le persone che hanno magari dei berretti, dei cappelli, in sostanza delle sciarpe, quindi che non sono super riconoscibili, insomma che si fa fatica a capire chi è la persona. Anche in questo caso può essere un escamotage per pubblicare la foto anche senza liberatoria. Oppure fotografare le persone di schiena. Cioè noi dobbiamo fotografare un monumento, una statua o qualcosa del genere magari fotografiamo le persone di schiena che stanno magari guardando il monumento, la statua e così via. Oppure una tecnica a me personalmente piace molto è quella di utilizzare dei tempi di scatto lunghi in maniera tale che le persone vengono mosse. Quindi tempi di scatto di un quarto di secondo, un quindicesimo, poi ovviamente dipende da quanto movimento c'è in quella zona. Se c'è tanto solo e potete utilizzare dei filtri ND in maniera tale che allungate notevolmente i tempi di scatto e a quel punto le figure diventano quasi dei fantasmi, delle sagome indistinguibili e quindi essendo indistinguibili si può pubblicare tranquillamente la fotografia anche se siamo in un luogo pubblico. Va bene, io ti ho fatto una carrellata di cosa si può fare e non si può fare relativamente alla fotografia di persone, alla pubblicazione delle foto di persone. Come visto, purtroppo abbiamo le mani piuttosto legate anche se c'è un paradosso, ripeto, visto che veniamo ripresi costantemente da telecamere, da smartphone, eccetera, però purtroppo questa è ciò che prevede la legge. Quindi non venite a dire ma Damiano, ma è ingiusto, è sbagliato? Io sono d'accordo, è giusto e sbagliato, ma la situazione è praticamente questa. Se il video l'hai trovato interessante metti un like, iscriviti al canale per avere altre informazioni utili per vivere in questo caso con più sicurezza la tua passione e se poi fossi interessato a crescere fotograficamente trovi il link dei nostri corsi in descrizione al video. Ci vediamo al prossimo fototutorial. Ciao!